Oggi è l'8 marzo e la festa delle donne ci sarebbero moltissimi modi di approcciarsi a questo tema. Oggi noi ne abbiamo scelto uno che non trova molto spazio sulla stampa italiana, parliamo di donne in Iran. Quando morì Masa Amini, quando fu ammazzata dal regime della Repubblica Islamica che da oltre 45 anni tiene sotto scacco un paese meraviglioso come l'Iran, quando Masa Amini fu ammazzata perché non teneva il velo correttamente, non copriva i capelli in modo corretto, fu lì il momento in cui la stampa cominciò a dare spazio alla situazione delle donne iraniane. Ma la situazione in Iran non è cambiata, le persone, uomini e donne continuano a morire per la loro libertà e per il loro paese e oggi avremo bisogno di sentire, di leggere sui nostri giornali le loro storie. Oggi lo facciamo da una testimonianza diretta di una donna iraniana qui in Italia e occorre da oggi, a partire dall'8 marzo, ma continuando ogni giorno, a tenere alta l'attenzione sulla situazione delle donne iraniane. Quando si parla dell'8 marzo, quasi nessuno potrebbe immaginare che nel 1977, durante l'Assemblea Generale dell'ONU, fu proprio l'Iran, insieme a quattro altri stati, a stabilire un giorno unico dedicato ai diritti delle donne in tutto il mondo. Prima le donne erano divise, e la festa della donna e le donne dell'Iran, una delle cinque nazioni fondatrici di questo giorno, non festeggiano, sono in lutto e in lotta. Ecco un esempio tangibile, ma accacciante, di quanto i diritti sono fragili, e perciò vanno sempre tutellati, difesi. Tutti vi hanno raccontato dell'Iran che c'è, ma io vorrei iniziare da comm'era. Le donne iraniane erano e sono pioniere nella lotta per i loro diritti. La prima regina regente del mondo, che governava un intero impero, solo nel 630 d.C., era persiana. E invece in Iran moderno, grazie agli sforzi dello Shah e la regina Farah Dibah, sono passate le leggi rivoluzionarie per promuovere la parità di genere. Lo Shah ha avviato il progetto Rivoluzione Bianca, conferendo il diritto di voto alle donne iraniane nel 1963, otto anni prima della Svizzera. Nel 1968 ha introdotto la legge di sossegno alla famiglia, che principalmente viettava la poliginia o meglio avere più di una moglie. Concedeva il diritto di divorzio e di aborto alla custodia dei figli e il diritto di lavoro alle donne. Ancora prima, nel 1935, mentre si sposavano le bambine, suo padre, Reza Shah Palavi, ha stabilito 15 anni come l'età minima per poter sposarsi per le ragazze. E lo Shah l'ha alzato ancora 18 anni. Tutto ciò è stato distrutto nel 1979 con la ribellione islamica e le interferenze estere. Questo è l'Iran di prima di questo regime. La prima ministra iraniana nel 1923, quattro anni prima di quella italiana. La prima senatrice iraniana nel 1964. La prima ambasciatrice nel 1918. La prima donna pilota nel 1975. Migliaia di donne, giudici, avvocati, medici, professori universitari, infermieri, insegnanti e così via. Regina Farah, insieme a sorella dello Shah, ha fondato Organizzazione delle Donne. La regina aveva il potere esecutivo, ha contribuito a tutto ciò che oggi è rimasto dall'istruzione, arte, architettura e sanità. Donna, vita e libertà non è nato l'altro ieri, ma ha le sue radici in Iran antico. In Iran di Pahlavi, dopo la presa di potere del regime attuale, hanno abolito tutte le leggi a tutela delle donne. Il velo pregatorio è soltanto la punta dell'iceberg. Le donne sono state marginalizzate e umiliate, perché loro sanno bene che quando la metà della società è priva di potere, l'intera società è paralizzata e non può opporre. Le donne iraniane hanno combattuto dal primo giorno, scendendo per strada, a protestare il regime misogina. L'8 marzo 1979, il giorno che il regime ha abolito tutte le leggi a tutela dei diritti delle donne, soltanto due settimane dopo la presa di potere, il regime ha fatto di tutto per cancellare le donne dalla società, per stabilire che le donne sono proprietà dell'uomo. Nonostante tutti i loro sforzi e tutta la decadenza culturale, grazie alla reforma culturale di prima, la maggior parte degli uomini iraniani sono al nostro fianco. Ma non dobbiamo dimenticare che sono soltanto le leggi che riescono a tutelare i diritti. Dopo uccisioni di Stato, di Massamini e l'avvio della nostra rivoluzione nazionale, dal 16 settembre 2022, i nostri ragazzi sono scesi per strada insieme alle nostre ragazze. Infatti sono in tanti gli eroi caduti che per l'ultimo post o storia Instagram hanno scritto «Sorella, mamma, io ho combattuto e combatto e muoio per te, tu stai tranquilla». Ecco, per concludere, vorrei dedicare questo 8 marzo non solo alle donne iraniane, ma anche a tutti i nostri ragazzi, pronti a morire pur totalmente uccisi, impiccati, ceccati o impregionati per i nostri diritti, perché è soltanto in questo modo che la lotta va vinta, o tutti insieme o falliremo. Grazie e viva la libertà! Oggi si parla di diritti delle donne. Come avete appena sentito, diritti delle donne violate in Iran e non solo. In tantissime parti del mondo le donne sono ancora le principali vittime di regimi autocratici e teocratici. Non molliamo l'attenzione, l'attenzione deve restare alta sui giornali, nelle nostre piazze. Continuate ad informarvi, noi continueremo a farlo da qui.